Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 migliori smart tv 32 pollici. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Samsung UE32 N5370 OST TV32. Samsung ha sempre riconosciuto il suo ruolo nel mercato di g-tail, e questa volta lo ha fatto introducendo un modello entry-level da 32 pollici, cioè, per non essendo un modello top di gamma, e comunque in grado di svolgere ai propri compiti senza causare la con nell'esperienza dell'utente. partiamo della qualità video, cioè, per non essendo del migliori, e in grado di soddisfare senza problemi ai clienti meno esigenti. La qualità audio è buona su tutta la linea, anche se ci sono alcuni piccoli difetti nei bassi e negli alti, c'è uno dei piccoli difetti della Smart TV. Al numero 4, abbiamo LG32 LK6200 Plaful Smart TV. Iniziamo descrivendolo come un televisore di fascia alta che, oltre alle caratteristiche standard, ha qualche extra di cui parleremo più avanti. La qualità audio e video è ottima, rendendo l'esperienza visiva praticamente identica a quella di una sala cinematografica, ad eccezione dello schermo da 32 pollici. Il sistema operativo di LG è ricco di funzionalità, consentendo non solo una navigazione fluida, ma anche l'installazione di una varietà di programmi utili, che vanno da Netflix a siti di social media come Facebook e Twitter. Al terzo posto, abbiamo la Samsung T5370 Smart TV 32. Lo Smart TV Samsung T5370 da 32 pollici presenta una risoluzione Full HD, che raddoppia la qualità dell'immagine rispetto ai tradizionali televisori di alta qualità, ed è compatibile con strumenti di assistenza vocale come Alexa di Amazon e Google Assistant, sistemi che rendono i comandi molto semplici anche quando altrimenti sei occupato. I colori sono audaci e luminosi e ogni dettaglio appare nitidissimo. Gli oggetti multimediali prenderanno vita davanti ai tuoi occhi grazie a questa tecnologia unica. In termini di qualità video, la tecnologia High Dynamic Range è progettata per ottimizzare la luminosità dello schermo, estendendo la gamma di tonalità e tonalità anche nelle impostazioni più scure. Al numero 2, abbiamo il iSense 32 i5000 F TV LED HD 32. iSense 32 i5000 F ha una risoluzione visiva HD ed è stato riconosciuto come uno dei migliori articoli dalle persone sul più grande mercato online del mondo, guadagnandosi la designazione Amazon's showice. L'esperienza di visione dei contenuti può essere modificata in modo significativo utilizzando le diverse modalità del menu delle impostazioni. Inoltre, con il miglioramento avanzato del colore, il rendering del contrasto e le tecnologie di dettaglio del movimento, questo TV da 32 pollici è perfetto per chiunque non voglia perdersi un evento sportivo o una scena di un film d'avventura del ritmo serrato. La cornice inferiore ultrasottile contribuisce al suo status di oggetto di design, mentre la mancanza di cornice frontale rafforza l'essenzialità della struttura, permettendole di distinguersi per eleganza e leggerezza estetica. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Sharpacos 32 BC6E, 32. Lo Sharpacos 32 BC6E da 32 pollici offre al consumatore molta flessibilità, consentendogli di scegliere se montare la struttura a parete o utilizzare i piedini di supporto. Sharpacos è simile ai modelli di fascia media in termini di design, con una cornice nera che circonda l'intero schermo ed è abbastanza piccola da rendere il dispositivo elegante e adatto a qualsiasi ambiente di arredo? La qualità audio, grazie al meccanismo integrato di Arman Kardon, è senza dubbio una delle caratteristiche più distintive di questo dispositivo. Il sistema DTS ti consente di creare una vera esperienza su round virtuale, permettendoti di ricreare correttamente un'esperienza cinematografica. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Ciao! 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 Ciao!